Volevano in alto i palloncini bianchi e rosa, tanti palloncini come quelli che Gioia avrebbe voluto lanciare durante la sua festa di compleanno prevista per il prossimo fine settimana. Gli amici della piccola, che ieri avrebbe compiuto sei anni, morta insieme alla mamma Maria Grazia in un tremendo incidente, hanno voluto salutare la loro compagna di scuola regalandole ciascuno un fiore bianco. È un addio straziante mamma e figlia insieme nel loro ultimo viaggio. Papa Michele, petriccione, unico superstite dell'incidente, è sorretto dei familiari schiacciato da un dolore che non si può spiegare. Io non so che a chiudere, lei come te, la mia vita, da quando aveva già due anni, faceva il giochino e io dicevo, Gioia cosa sei tu per farla? E lei diceva, la tua vita. E io dicevo, ma sì, che significa? Che non puoi vivere senza di me. Se così è, senza di me potrò vivere. D'alba, sì, che non può vivere senza di me. Se così è, senza di me potrò farcela nessun modo. D'alba, sì, che non può vivere senza di me. Difficile anche per Don Giuseppe, parroco di Montorcone, trovare le parole di consolazione. Ci sono parole, e mi rivolgo a Michele, che sono scolpite nel cuore. Mi riferisco a quelle parole che vi siete detti poco prima che succedesse la tragedia, per una singolare circostanza, non le solite parole per organizzarsi, per prepararsi, ma qualcosa di più. Il buio di questo momento, nel buio di questo momento, sono parole che fanno luce. Ciao Gioia, sempre insieme, gli striscioni appesi fuori dal santuario, a pochi metri dall'asilo dove la piccola aveva giocato felice fino allo scorso giugno. Il sorriso di gioia, abbracciata alla mamma nella foto scelta dai familiari, sembra voler abbracciare chi resta, sarà il ricordo del loro amore a dar la forza ai familiari.